L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Per le nuove domande prosegue la misura straordinaria per i nuclei familiari in difficoltà e quanto comunica l'Inps. Partite quest'oggi l'operazione di bonifica dei quartieri su della città di Catanzaro dopo il quartiere Aranceto è toccato oggi alla zona di Viale Isonzo. Buonasera, buonasera mercoledì 16 settembre 2020. Bentrovati sul 18 per l'informazione regionale di Esperia TV. Si terrà sabato mattina all'aeroporto di Vercelli. L'ultimo saluto a Tonino Greppi e Roberto Savio. I due piloti vercellesi di 60 anni morti, lo ricorderete, in un uccidente aereo lo scorso 26 agosto nelle campagne di Cassano all'Ionio. Viaggiavano su un ultraleggero partito all'aeroporto di Vercelli per un tour su più tappe che si era schiantato al suolo poco dopo il decollo. La procura di Castrovillari ha dato il nulla osta per i funerali. L'aeroclub di Vercelli ospiterà sabato alle 10.30 una commemorazione per i suoi due storici soci. Dopodiché si svolgeranno i rispettivi funerali. E ora ci occupiamo del Marrelli Hospital di Crotone. Ci sono delle nuove notizie. Vediamo. È stato raggiunto l'accordo che consentirà l'erogazione delle prestazioni di radioterapia che ricordiamo essere cure salva vita sino al 31 dicembre da parte del Marrelli Hospital di Crotone. L'accordo è giunto al termine di un incontro avvenuto nella sede dell'ASP di Crotone alla presenza del commissario ad acta Saverio Cotticelli, del direttore generale facente funzioni dell'ASP Francesco Masciari, del direttore sanitario facente funzioni Pietro Brisinda e del management del Marrelli Hospital. L'accordo mette fine per il momento ai timori di centinaia di pazienti oncologici del territorio crotonese di doversi spostare in altre strutture più lontane e difficilmente raggiungibili per sottoporsi alla terapia. Nei giorni scorsi infatti il budget a disposizione della clinica si era esaurito. L'azienda sanitaria provinciale e la clinica crotonese hanno sottoposto a cotticelli alcune ipotesi operative dirette al definitivo superamento delle problematiche rispetto alle quali il Dipartimento regionale Tutela della Salute ha avviato una verifica. Intanto, più di 300 candidati al Consiglio Comunale di Crotone, appartenenti alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra, hanno lanciato una petizione popolare per chiedere la fine del commissariamento in Calabria. Non vogliamo più commissari, ma fiducia e risorse sufficienti, si legge nel testo della petizione divulgato alla stampa. Le 15 listre del centrodestra e centrosinistra hanno voluto ricordare ai cittadini che in Calabria la sanità fa acqua da tutte le parti, ad iniziare dai viaggi della speranza, un dato purtroppo ancora altissimo. Basti pensare che ben il 44% delle donne calabresi, per esempio, è costretto a migrare fuori regione per sottoporsi ad un intervento di tumore al seno. La qualità dei servizi è peggiorata. L'entità della mobilità passiva nello scorso anno ha sfiorato i 304 milioni. I tetti di spesa decisi dai commissari non sono consoni anche per quelle prestazioni salvavita che porteranno ad una nuova e più. pesante emigrazione sanitaria, oltre che a mettere a rischio la vita di tanti calabresi. Ecco i motivi che hanno spinto i 300 candidati a lanciare la petizione. Il governo deve dare dignità al servizio regionale calabrese. Non hanno aderito all'appello le altre due coalizioni in campo, capitanate da Vincenzo Voce e Andrea Correggia. Ed ora il bollettino Covid diffuso nel pomeriggio dalla regione Calabria, il bollettino del 16 di settembre. Ci sono oggi 19 casi in più rispetto a ieri, ma leggiamo tutti i dati. I casi totali 1.741, ricoverati 28, in rianimazione 2 persone, guariti 1.158, i morti 97, in isolamento 251 persone. Tamponi effettuati sino ad oggi 176.447. Riceve dagli Stati Uniti d'America un assegno di 1.200 dollari per l'emergenza Covid, ma le poste italiane, dove ha il proprio conto, le comunicano che non può negoziare, in quanto non valuta euro. E quanto accaduto, come raccontano i suoi parenti, ad un'anziana signora, cittadina statunitense, quindi destinataria della Somma a titolo di aiuto, residente in provincia di Catanzaro. La donna che vive in un piccolissimo comune montano, dove attivo solo lo sportello postale, si è vista negare l'accredito della Somma per una nuova disposizione di poste italiane. Verso le elezioni comunali a Crotone, ieri sera c'è stato un confronto tra i candidati a sindaco, promosso in città presso il 9.02 su lungomare Pitagorico dall'Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti. Ci siamo sempre, vogliamo che l'amministrazione comunale tenga conto delle nostre competenze, professionalità e disponibilità. Piano di rientro dal debito, almeno 20 milioni da recuperare, mancata riscossione dei tributi, evasione, rifiuti, sicurezza, manutenzione ordinaria dell'area industriale. Tanti i temi toccati dai candidati a sindaco di Crotone al 9.02, davanti ad una platea qualificata, quella dei Dottori Commercialisti, ha moderato il direttore di Esperia, Salvatore Audio, assente giustificato il candidato di centro-sinistra, Danilo Arcuri, impegnato in contemporanea in un'iniziativa a capo-colonna. Voce, manica e correggia, sollecitati dai professionisti e dal presidente dell'Ordine, Mimo Arcuri, hanno avanzato le loro ricette per rilanciare l'economia pitagorica, qualificare la mobilità, guardare a nord e a sud, diventare il polo della portualità orientale dell'Europa mediterranea. Quali sono i loro programmi, le loro intenzioni, le loro iniziative per questo territorio? Territorio che, come sappiamo tutti, è sotto gli occhi di tutti, purtroppo soffre da tanto tempo, ma la sofferenza si è ancora di più accentuata con questa pandemia che chiaramente ha messo un po' in ginocchio tante attività, tante imprese. Purtroppo vediamo che ci sono alcuni esercizi commerciali, anche storici, che purtroppo a tutto non hanno riaperto assolutamente. Chiediamo innanzitutto che questa città sia pulita, perché effettivamente è un degrado completo, totale. Sia le strade, purtroppo le vediamo, sono piene di buchi, sono impraticabili. I dottori commercialisti hanno sempre avuto a cuore le sorti di questa città. Tutti dovremmo in qualche modo tenerci di più, amarla di più, darci più da fare. Noi, come ha detto bene, abbiamo sempre dato il nostro contributo, siamo sempre stati presenti, anche con comunicati forse un pochino critici, ma proprio per dare uno stimolo a chi ci governa e per dare qualcosa in più per questo territorio. Una città bellissima, una città che come vedete alle nostre spalle c'è un mare favoloso. Voltiamo pagina, è nuovamente possibile presentare la domanda del cosiddetto REM, il reddito di emergenza, la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata all'emergenza Covid-19 in possesso ovviamente dei requisiti previsti dalla legge, lo comunica la sede calabrese dell'Inps. La nuova domanda potrà essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare individuato come il richiedente del beneficio entro il termine perentorio del 15 di ottobre attraverso i seguenti canali, sito internet dell'Inps oppure enti di patronato o ancora centri di assistenza fiscale. Ed ora Catanzaro in Viale Isonzo. Il primo intervento è stato ad agosto in Via Teano nel quartiere Aranceto. Questa mattina è partita la bonifica in Via Isonzo. Il vasto caseggiato popolare del Civico 222 è abitato soprattutto da famiglie Rom e anche in questo quartiere della zona sud di Catanzaro il degrado fa da cornice ad un profondo disagio sociale. Ovunque carcasse di auto abbandonate, ricettacolo di rifiuti di ogni genere e deposito di merce di dubbia provenienza, cumuli di spazzatura, elettrodomestici e mobili abbandonati e poi anche qui i dossi abusivi costruiti per proteggere i fortini criminali da cui vengono controllate le attività di spaccio e furti d'auto per il cosiddetto cavallo di ritorno, ostacoli che servono a rallentare le auto delle forze dell'ordine durante le attività di controllo e che sono stati smantellati dalla task force voluta dall'amministrazione comunale per restituire decoro alla zona. A lavoro i settori ambiente, gestione del territorio e il comando dei vigili urbani che hanno coordinato gli interventi di bonifica condotti dalle aziende SIECO, Catanzaro Servizi e Verdidea, interventi resi possibili grazie al supporto delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza con il coordinamento della questura. Voltiamo pagina il prossimo 23 di settembre presso le sale comunali del castello di Caccuri, siamo in provincia di Crotone, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marianna Carigiuri conferirà al magistrato Nicola Gratteri e al maestro orafo Michele Affidato la cittadinanza onoraria per l'appunto di Caccuri. Il riconoscimento verrà assegnato durante una delle serate della non-edizione del premio letterario a cui sia il dottor Gratteri che l'orafo Affidato hanno dato negli anni il proprio contributo come scrittore l'uno e artista l'altro. E ora ci occupiamo delle eccellenze del sud della Calabria in modo particolare. Andiamo a Reggio Calabria. Successo al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria per la rassegna di giornalismo agroalimentare e agroindustriale ProSud, un evento che punta ad affermare l'esigenza e l'importanza di promuovere i prodotti identitari dei territori che sono il baluardo del Made in Italy. Abbiamo messo insieme tutto il mondo della rappresentanza sindacale di categoria, le organizzazioni sindacali, abbiamo voluto qui tutti i consorsi, le accademie, per parlare insieme, per fare squadra e per poter dire che la qualità che c'è sul nostro sud la si può sicuramente portare ad esempio ed essere più presenti sui mercati internazionali ed essere più coraggiosi e dire che qui c'è la qualità e c'è veramente tanta bontà. Tre giorni densi di contenuti con interventi dei rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria, degli esperti di settore, culminati con la premiazione di consorsi e giornalisti che sono distinti per aver valorizzato il sud, la sua enogastronomia, le sue produzioni agroalimentari. Tre premiati, l'inviato del Sole 24 Ore, Nino Madore, la giornalista Rai, Veronica Gatto, il critico Lorenzo Sandano, il coordinatore delle Guide dell'Espresso, Andrea Radici. Le Guide dell'Espresso hanno un magazine online che ho la responsabilità di coordinare, le Guide dell'Espresso dirette da Enzo Vizzari hanno da diversi anni, da diversi decenni, portato il meglio dell'Italia gastronomica a disposizione di tutti. Noi lo facciamo tutti i giorni, raccontando anche molto in video quello che è questo patrimonio di cultura e di gastronomia. Nel sud c'è una produzione meravigliosa, qui a Reggio Calabria poi soprattutto, parliamo ora, a parte tanti prodotti, però io parlo in particolare del bergamotto. Il bergamotto è proprio tipico di questa area e con il bergamotto tra l'altro ci si possono fare tantissime cose, oltre alle pietanze si può utilizzare anche nella cosmetica, gli oli essenziali sono particolarissimi, è un profumo eccezionale che racchiude tutta la bellezza di questa regione. Premiati i consorsi, l'Iquilizza di Calabria, Pasta di Gragnano e Pistacchio di Bronte, i riconoscimenti sono stati realizzati dal maestro orafo Gerardo Sacco. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, l'informazione del giornale di Esperia TV canale 18 tornerà domani alle 13.45. Arrivederci.